Il creativo, visionario e ironico Terry Gilliam è il protagonista sul red carpet del sesto giorno del Festival di Venezia. Il regista è accompagnato da Melanie Thierry e David Tuwels, due attori che hanno preso parte a The Zero Theorem, il film che Gilliam ha presentato in concorso al Festival di Venezia con un grande Christoph Waltz come protagonista. Nel cast anche Matt Damon e Tilda Swinton. Tutti i tre nomi sono da aggiungere alla lista dei grandi assenti al Festival. Terry! 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 Fuori concorso invece è stato proiettato l'hoc di Stephen Knight, con Tom Hardy come protagonista, che si cimenta in una dura prova d'attore poiché è l'assoluto protagonista dall'inizio alla fine del film, ambientato unicamente all'interno della sua auto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.